per i ultimi 4 anni per i ultimi anni Yamaha ha visto il miglior del miglior del filipino Yamaha GP ha portato i filipino in fronte dell'internazione del filipino nel 2014 Yamaha GP è ora sul suo cinque anno e Yamaha avvicinerà una volta la Yamaha GP5 ora guarda 9 maggiori cittadini all'interno del filipino come un paese dove i migliori contendori nella ronda finale prenderanno la fiducia di rappresentare il filipino del filipino del 2014 una volta la Yamaha motor filipino è invitata a partire e rilassare la gloria 2014 Yamaha GP5 inolvisare il filipino del filipino deltri Grazie a tutti.